Il beato Giacomo Cusmano Ha dato inizio all'opera con i primi soccorsi a domicilio, ha iniziato le attività, intanto a visitare gli ammalati, i poveri nelle case a domicilio e facendosi aiutare anche dalle persone che erano disponibili, dai volontari. Quest'istituzione in verità poi è stata confermata dal punto di vista canonico ufficialmente il 12 maggio dello stesso anno del 1867. Domani è un giorno importante, un ricordo, ma è anche una maniera come un'altra per poter, ricordando, per poter domandarsi cosa siamo, come viviamo, la nostra identità di servi dei poveri, sia i sacerdoti, sia i suori religiosi, quindi, anche i laici, i collaboratori, gli associati. E' una spinta che riceviamo da parte del fondatore con la grazia del Signore e speriamo di poter realizzare, di poter concretizzare quello che è lo spirito vero del boccone del povero, per andare incontro agli altri, nella semplicità, ma nella concretezza, nello stesso tempo. Certo non è semplice, da di tempi, però, ecco, il Signore ci invita ad avere sempre fiducia. Fiducia in Lui, fiducia negli altri, fiducia nella Sua grazia e nella Sua misericordia. La misericordia che il Signore ci ha sempre manifestato attraverso la storia, ecco, sia nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, anche nella Chiesa. La misericordia che è stata messa in evidenza, ecco, in quest'ultimo anno, con l'anno della misericordia, appunto, e che ci ha stimolato ancora di più a rivedere quello che noi siamo. Certo, non è semplice poter, ecco, vivere con concretezza, poter condividere, però, ecco, il Signore ci dice che con la fiducia, con la buona volontà, con l'impegno, con lo spirito di sacrificio, tutto si può realizzare. Quello che noi auguriamo, ecco, alla nostra istituzione, alla nostra opera, con tutti i vari componenti, di poter vivere, ecco, anche nell'avvenire ed essere sempre un segno. Ci troviamo in via Giacomo Cusmano, 41 a Palermo, nella chiesa di Sant'Antonio di Padova, dove sono custodite le venerate spoglie del fondatore del Boccone del Povero, il sacerdote Giacomo Cusmano, beatificato il 30 ottobre dell'anno 1983 dal Santo Papa Giovanni Paolo II. 30 ottobre 1983. È un giorno di festa. Piazza San Pietro a Roma è gremita di gente. Giacomo Cusmano viene proclamato beato. Nella presentazione Giovanni Paolo II così si espresse. Il beato Giacomo Cusmano, medico e sacerdote, per sanare le piaghe della povertà e della miseria che affliggevano tanta parte della popolazione, scelse la via della carità, amore di Dio che si traduceva nell'amore effettivo verso i fratelli, e nel dono di sé ai più bisognosi e sofferenti, in un servizio spinto sino al sacrificio eroico. Trovarci davanti all'urna del beato per noi è un segno particolare, perché fra qualche giorno, il 21 febbraio, ricorderemo il centocinquantesimo di fondazione della nostra opera. Giacomo Cusmano ha intuito, dal parte del Signore, la fondazione di famiglie religiose, riguardanti un ramo femminile, le sue reserve dei poveri, e un ramo maschile, composto dai frati e dai missionari sacerdoti, servi dei poveri. Il 21 febbraio, dicevo, celebreremo il centocinquantesimo di fondazione della nostra opera. Perché il 21 febbraio? Perché nel lontano 1867 si registrarono proprio in quella data i primi soccorsi a due famiglie povere che erano state segnalate a Giacomo Cusmano. Da quel giorno iniziò la propagazione di questo Ministero di Carità, e Giacomo Cusmano intese impegnare e coinvolgere nella sua azione caritativa tutta quanta la Chiesa di Palermo, a partire dal Vescovo, poi i sacerdoti e poi i fedeli laici. Gli inizi furono... Gli inizi welcome! Apostolo di bene, che ogni orquaggio riluce, Amor le nirre pene, con fede d'umiltà, Sprezzo l'orgoglio e il mondo, parlo del grande Dio, E si sentì giocondo, sol nella povertà, E pose con amore, nei solchi della vita, Il seme del Signore, fecondo di virtù. E con paterno amore, ha colse tra le braccia, I vinti dal dolore, di sé di carità, L'onor per le ricchezze, per far fiorir gli asili, Ed affrontò le asprezze, con più serenità, Da un soldato invito, lotto contro l'errore, E fu del derelito, il solo protettore. Dal cielo bellissiere, accanto a Dio soprano, Tua giù feconda, vede, l'umana carità, E che il suo giocondo, sa che l'antico seme, E semino nel mondo, nuovi germoi da, Giù feconda, Madre degli infelici, O Giacomo, Cunzono, De tutti i benedici, Nel nome del Signore. Cunzono, 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 Lo dipendere, Che ogni or espaggia un riloce, Amore, Mi rependere, con fede e umiltà, sprezzo l'orgoglio al mondo, parlo del grande Dio, che si sentì giocondo, sol nella povertà, e ripose con amore, nei sonchi della vita, il seme del Signore, fecondo di virtù. E con materno amore, a colse tra le braccia, diventi dal dolore, di sé e di carità, dono le ricchezze, per far fiorir gli asili, ed affrontò le asprezze, con più serenità. Davo un soldato invito, lotto contro l'errore, e giù del verenito, il solo protettore. Dal cielo te risiede, accanto a Dio sobrano, ma giù per contare di Dio, l'umana carità, e del suo conto, a dell'antico sereno, e del suo conto, a Dio sobrano, e tutti i benedici nel nome del Signore. Viva il Beato Giacomo! Il Beato Giacomo 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 Signore cortesemente iniziamo a prendere posto. Il Beato Giacomo 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 Grazie. 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 Grande il Signore, degno di ogni lode, nella città del nostro Dio, il suo monte santo, altura stupendo, è la gioia di tutta la terra. Senza di Oregio, il suo numero di un minuto radiador per l' errors dalla città del nostro Dio grino del nostro Dio. Grazie. Grazie a tutti i settuali delle sue note. La città del grande sovrano di ogni suoi balupardi è apparso furtezza inespugnabile. La città del grande sovrano di ogni suoi balupardi è apparso furtezza inespugnabile. La città del grande sovrano di ogni suoi balupardi è apparso furtezza inespugnabile. La città del grande sovrano di ogni suoi balupardi è apparso furtezza inespugnabile. La città del grande sovrano di ogni suoi balupardi è apparso furtezza inespugnabile. Essi hanno visto attoniti e presi dal panico sono fuggiti. La città del grande sovrano di ogni suoi balupardi è apparso furtezza inespugnabile. La città del grande sovrano di ogni suoi balupardi è apparso furtezza inespugnabile. La città del grande sovrano di ogni suoi balupardi è apparso furtezza inespugnabile. La città del grande sovrano di ogni suoi balupardi è apparso furtezza inespugnabile. La città del grande sovrano di ogni suoi balupardi è apparso furtezza inespugnabile. Quante attacmeni ci sono stati puisquai subito alla città del grande sovrano di ogni suoi balupardi è rall sponsorata inespugnabile. La città del grande sovrano di ogni suoi barerry, è apparso furtezza in espugnabile. La città del grande sovrano di ogni suoi balupa è apparso furtezza in espugnabile. Grazie a tutti. 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 Il Turano per sette anni gli negò il permesso di avviare un'opera che intendeva coinvolgere le famiglie di Palermo, ma finalmente, a seguito di tragiche notizie di miseria, gli consentì di presentare nel febbraio del 1867 una supplica all'arcivescovo Giovan Battista Naselli, che diede il suo assenso alla nascita dell'Associazione del Boccone del Povero. Benedetta poi dal Papa Pio IX il 5 agosto 1868 ed istituita canonicamente l'8 dicembre successivo. Oltre a validi laici si unirono al Cusmano una ventina di sacerdoti della Diocesi. Ogni giorno si riusciva a sfamare centinaia di poveri. Nel 1870 morì l'arcivescovo Naselli, che aveva contribuito a far conoscere l'opera con la sua lettera pastorale della Pasqua del 1869. Uno scritto esortazione che mirava a coinvolgere tutta l'Arcidiocesi di Palermo in questo piano caritativo. Nel contempo, molti sacerdoti collaboratori vennero insegniti della dignità episcopale, fra i quali anche il Turano, nominato vescovo di Girgenti a Grigento, che vuole portare con sé Padre Giacomo. Ebbe inizio così il decadimento dell'Associazione. Ma Padre Giacomo, appena poter rientrare a Palermo, si dedicò con nuovo fervore a riorganizzare l'opera, ottenendo nel 1874 il conventino di San Marco al Capo, che trasformò nel centro assistenziale più importante della città. Rifiutando ogni dignità ecclesiastica, il canonicato nella cattedrale e il parrocato, prima a San Giuseppe Iato e poi a Sant'Ippolito in Palermo, si adoperò per coinvolgere familiari ed autorità civili ed ecclesiastiche, cominciando a pensare l'affidamento dell'opera a qualche comunità di suore. Nel 1878, in un sogno riconosciuto dal confessore come visione, la Madonna lo rincuorò e il 23 maggio del 1880 diede l'abito alle prime sei suore serve dei poveri, tra le quali la sorella Vincenzina. Dal barone Niccolò Turrisi, sindaco di Palermo, ottenne la Quinta Casa al Molo, un grande edificio abbandonato già dei gesuiti, e dal barone Starabba il denaro sufficiente per l'acquisto di una seconda casa nella città, in località Terrerosse, oggi via Giacomo Cusmano. Si aprirono poi altre case fuori Palermo. Nel 1882 a Girgenti, nel 1883 a Val Guarnera e a Monreale, nel 1884 a San Cataldo, nel 1886 a Canicattì. Attingendo al filone spirituale di Francesco d'Assisi e di Vincenzo de Paoli, il 4 ottobre 1884, Padre Giacomo potrebbe estire i primi dieci frati coadiutori laici, mentre i primi missionari sacerdoti li riunì il 21 novembre 1887, pochi mesi prima alla sua morte, alla presenza e con la benedizione del Cardinale Arcivescolo di Palermo, Michelangelo Celesia. Padre Giacomo morì a Palermo in fama di santità il 14 marzo del 1888, venendo proclamato beato da San Giovanni Paolo II il 30 ottobre 1983. Il beato Giacomo Cusmano considera il povero sacramento di Cristo stesso, perché nella persona del povero è presente lo stesso Gesù. Nel suo vissuto parte dalla scena del giudizio finale di Matteo 25, e riferendosi anche ai richiami giovannei sull'esercizio della carità e ad altri passi biblici, convinto che i poveri sono immagine di Dio, amici di Dio e suo sacramento, si eleva alle più alte vette della contemplazione. Anche nel suo numeroso epistolario o in altri scritti, non cessa di richiamare ed inculcare questo amore e questo servizio da rendere a coloro che sono immagine di Dio. Per questa nobile causa e per questo ideale, affronta senza mezzi termini e con autentica e corrigiosa convinzione anche le autorità civili della città di Palermo, di Valguarnera, di San Cataldo. E nel 1871, in un discorso al deposito di Mendicità di Palermo, difende fortemente la dignità dei poveri e dei reclusi, i cui diritti non vanno mai calpestati. Dopo le fondazioni cui abbiamo fatto cenno, il parlare di Giacomo Cusmano raggiungerà i vertici della più alta mistica, in un testo della celebre Omeria, tenuta nella quarta domenica di quaresima del 1884 alla Quinta Casa in Palermo. Guardando Gesù, nato povero, vissuto più povero e morto poverissimo, secondo il notassioma del grande santo dottore Bernardo di Chiaravalle, il Cusmano lo considera il primo, il più grande e l'unico benefattore dell'umanità. Egli, infatti, Gesù si è fatto carico di tutti, ha beneficato tutti, eppur, avendo donato la sua vita sulla croce, ha voluto istituire il sacramente eucaristico, il boccone, per farsi alimento dell'uomo ricco o povero indistintamente. Il povero, immagine, reliquia, da amare e servire sempre, induce a non marcare più alcuna distinzione tra Gesù in sacramento e Gesù nel povero. È sempre lui. Lo aveva già insegnato l'Apostolo della Carità, San Vincenzo dei Paoli, col principio del lasciar Dio per il Dio. Lo ripete Giacomo Cusmano, inculcando la posposizione e armonizzando la contemplazione con l'attività. A noi, che oggi siamo qui a corsi numerosi e che ne abbiamo raccolto la preziosa eredità, spetta il compito di custodirla, di viverla, di trasmetterla, fondati sulla certezza che Dio mai promette senza mantenere. E se Gesù ha promesso il paradiso anche a chi offre un solo bicchiere d'acqua al bisognoso, ancor più lo darà a chi, donando la propria vita, ha scelto i poveri come eredità e tesoro. Fratelli e sorelle, celebriamo oggi, in questa cattedrale, il centocinquantesimo anniversario della fondazione del Boccone del Povero. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia e che vuole essere riconosciuto presente nei poveri, ora ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere o missioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli Angeli, i Santi e voi fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amo. Signore Pietà Signore Pietà Signore Pietà Signore Pietà Gloria a Dio nell'alto dei cieli Signore Pietà La gloria intensa, Signore Dio, crede in cielo, Dio, Padre, unipotente. Signore, 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 Sign Padre, pietà di noi. Tu che siedi a la destra del Padre, Padre, pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'albissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di mio Padre. Amén, amén, amén. Amén, amén. 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 In quei giorni, la regina Esther, presa da angoscia mortale per il pericolo che incombeva su di lei e il suo popolo, cercò rifugio presso il Signore. Ella si mise a supplicare Dio dicendo, mio Signore, nostro Re, tu sei l'unico. Vieni in aiuto a me che sono sola e non ho altro soccorso se non te, perché un grande pericolo mi sovrasta. Io ho sentito fin dalla nascita, in seno alla mia famiglia, che tu, Signore, hai scelto Israele da tutte le nazioni e i nostri padri da tutti i loro antenati come tue eterne eredità, e hai fatto loro secondo quando avevi promesso. Ricordati, Signore, manifestati nel giorno della nostra affezione e a me dà coraggio, o Re degli Dei e Signore di ogni autorità. Salvaci con la Tua mano e vieni in mio aiuto, perché sono sola e non ho altro che te, Signore. Parola di Dio. La misericordia del Signore La misericordia del Signore L'anima mia magnifica il Signore E il Signore D'ora in poi, tutte le generazioni mi chiameranno Beata Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il Suo nome Di generazione in generazione La sua misericordia Si stende su quelli che lo temono La misericordia del Signore La misericordia del Signore Ha spiegato la potenza del Suo braccio Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore Ha rovesciato i potenti dai troni Ha innalzato gli umili Ha ricolmato di beni gli affamati Ha rimandato a mani vuote i ricchi La misericordia del Signore La misericordia del Signore Si stende in generazione In generazione Ha soccorso Israele suo servo Ricordandosi della sua misericordia Come aveva promesso ai nostri padri Ad Abramo e alla sua discendenza per sempre La misericordia del Signore La misericordia del Signore Si stende in generazione In generazione Dalla lettera di San Giacomo Apostolo Fratelli miei Parlate e agite come persone Che devono essere giudicate Secondo una legge di libertà Perché il giudizio Sarà senza misericordia Contro chi non avrà usato misericordia La misericordia La misericordia, invece Ha sempre la meglio nel giudizio Che giova, fratelli miei Se uno dice di avere la fede Ma non ha le opere Forse che quella fede può salvarlo Se un fratello o una sorella Sono senza vestiti E sprovvisti del cibo quotidiano E uno di voi dice loro Andatevene in pace Riscaldatevi E saziatevi Ma non date loro il necessario per il corpo Che giova Così anche la fede Se non ha le opere E' morta in se stessa Parola di Dio Parola di Dio Alleluia 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 Sia benedetto Dio Non ha respinto la mia preghiera Non mi ha negato la sua misericordia Alleluia 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 Il Signore sia con voi E con il tuo figlio Dal Vangelo secondo Giovanni Glorie a te, oh Signore In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea E c'era la madre di Gesù Fu invitato a nozze anche Gesù con i suoi discepoli Venuto a mancare il vino La madre di Gesù gli disse Non hanno vino E Gesù le rispose Donna che vuoi da me Non è ancora giunta la mia ora Sua madre disse ai servitori Qualsiasi cosa vi dica Fatela Vi erano là sei anfore di pietra Per la purificazione rituale dei giudei Contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri E Gesù disse loro Riempite d'acqua le anfore E le riempirono fino all'orlo Disse loro di nuovo Ora prendetene E portatene a colui che dirige il banchetto Ed essi gliene portarono Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino Colui che dirigeva il banchetto Il quale non sapeva da dove venisse Ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua Chiamò lo sposo e gli disse Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio E quando si è già bevuto molto Quello meno buono Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora Questo a Cana di Galilea Fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù Egli manifestò la sua gloria E i suoi discepoli credettero in lui Parola del Signore Lo del Deo Cristo Alleluia 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 Amatissimi, con gioia vi saluto e in particolare saluto la grande famiglia Cusmaniana. Saluto il carissimo Padre Generale, Padre Russo, saluto il carissimo Padre Provinciale, Padre Fiumanò, saluto la carissima anche Madre Generale con tutto l'affetto e la stima che in questo momento non possiamo non esternare. Perché voi ci testimoniate la ricchezza del dono che il Signore ha fatto alla nostra Chiesa palermitana e attraverso la Chiesa palermitana a tutta la Chiesa. Il dono di un carisma che oggi, dinnanzi ai nostri occhi, ricorda ancora una volta il cuore del Vangelo. E il cuore del Vangelo è che Dio è misericordioso e che Dio ascolta la voce dell'umile. Nella prima lettura, tratta dal libro di Esther, Esther profonde la sua preghiera al cospetto di Dio perché, fiduciosa, lei è una deportata. E sappiamo da questo libro che grazie a lei, ad una donna deportata, il Signore, il Signore grazie a lei, eviterà lo sterminio del suo popolo. E Esther, dal profondo del suo cuore, sa, secondo quello che lei ha sentito, ha sentito fin dalla nascita, dice il testo, lo ha sentito in seno alla sua famiglia, che il Signore viene in aiuto a quelli che lo invocano, che il Signore, utilizzando un linguaggio vicino a noi uomini, ha un cuore che si coinvolge, ha un cuore che si coinvolge, ha un cuore che si coinvolge, ha un cuore che è attento al grido del povero, ed Esther innalza la sua preghiera. Sì, Dio ascolta il grido del povero, in tutta la Bibbia Dio manifesta sempre questa sua predilezione. La predilezione, in particolare, per alcune categorie, il povero, l'orfano, la vedova, il profugo. E Dio viene sempre in soccorso di chi grida verso di Lui. A maggior ragione se chi è povero sperimenta la durezza del cuore di altri uomini insensibili che non hanno un cuore capace di coinvolgersi, anzi, che induriscono il cuore per un proprio interesse. E a volte sappiamo, nell'Antico Testamento, ma sappiamo anche dalla labbra di Gesù, a volte anche capace di strumentalizzare Dio stesso per un fine personale, per un fine di interesse privato. Dio usa misericordia. E' il Vangelo di oggi che ci fa guardare a colei che l'Evangelista chiama la madre. Il Vangelo ci ricorda attraverso la madre, la madre di Gesù, che non può mancare, non può mancare il vino. E il vino non è un elemento secondario rispetto ad un banchetto, a maggior ragione ad un banchetto nuziale. Ma per Giovanni che scrive questo Vangelo e per la madre il vino è elemento essenziale. Perché il vino in fondo, se c'è, annunzia che ormai è imbandito il banchetto, il banchetto del regno. Dunque Dio è intervenuto e deve intervenire. Ecco perché Maria non fa altro che quasi dare un input a Gesù, perché Gesù dia inizio ai segni. Ai segni che dicono che finalmente Dio, Dio è entrato dentro la storia del suo popolo direttamente, personalmente, si è coinvolto. E il vino è il segno della gioia, è il segno della vera gioia. La gioia di chi sa che ormai il cuore misericordioso di Dio è intervenuto, perché il suo popolo viva e viva nella pienezza della gioia. Dio attraverso il suo figlio, Dio attraverso colui che noi riconosciamo come il suo figlio, che è Gesù. Ormai è dentro, dentro, la vita del suo popolo. E chi conosce, chi si fa discepolo è colui che diventa testimone dell'intervento di Dio. Direi dell'intervento continuato di Dio in mezzo al suo popolo. Significativamente, Giovanni annota, in questa pagina del Vangelo, che fu invitato alle nozze anche Gesù. E c'erano con lui i suoi discepoli. Gesù compirà questo segno, dice Giovanni, questo fu il principio dei segni che Gesù pose in Cana di Galilea. E attraverso questo segno manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Il discepolo è colui che sta con il maestro sin dall'inizio. L'uomo di fede, come Esther, è colui che conosce direttamente il cuore di Dio. esperti del cuore di Dio, discepoli, coloro che hanno dimistichezza con il maestro, colui che è venuto a porre i segni dell'irruzione di Dio, che riscatta la vita del suo popolo dal male, che rende finalmente al suo popolo la gioia messianica, la gioia. La gioia è il segno di una vita umana compiuta. La gioia è il segno che finalmente nella vita degli uomini regna Dio. E regna Dio con quelli che sono i beni tipici di Dio. Giacomo Cusmano, come Esther, è un uomo che sa che Dio ascolta il grido del suo povero. Giacomo Cusmano sa che Dio vuole che gli uomini siano riscattati dalla povertà, dal male. Giacomo Cusmano sa che non può mancare il vino nella vita degli uomini. Cioè la pienezza della gioia. E per questo, per questo lui sente come sente Dio. E con il suo maestro sin dal principio. La potenza della testimonianza di Giacomo Cusmano è in questo essere con il maestro sin dal principio. Ecco perché diventa testimone di ciò che i suoi occhi contemplano, di ciò che le sue mani hanno toccato. Maria, la madre, in questa pagina del Vangelo, ecco lei che ci dice qual è il potere della fede. E Maria ha questa fede perché prima di ogni cosa Maria è discepola. Per questo è madre, perché Maria presta ascolto e presta ascolto in profondità. In Maria c'è un reale primato di Dio e della sua legge. E il potere di ogni discepolo è questo. Far diventare un adesso ciò che non è ancora. Avete sentito la risposta di Gesù? Che c'è tra me e te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. Ma Maria, imperterrita, sa. Sa che ormai è il momento. Non c'è un non ancora. Gesù c'è. E dunque c'è un adesso. Deve finalmente liberarsi tutta la potenza salvifica di Dio che è concentrata nel suo Figlio. E dunque voi farete tutto quello che Lui vi dirà. Voi farete tutto quello che Lui vi dirà. Vorrei oggi continuare a gioire con voi. A gioire con voi perché la nostra Chiesa oggi non può non rendere grazie a Dio per la testimonianza di Padre Giacomo Cusmano. Noi oggi lo contempliamo come Beato. La nostra vita si sente attirata da Lui perché in Lui noi riconosciamo chi è stato sin dal principio con Gesù. Ne ha colto il cuore. E qual è il cuore di Gesù? Qual è il cuore del suo Vangelo? E qui vi vorrei fare notare anche che cosa dice nella seconda lettura Giacomo Apostolo. che giova se uno dice di avere fede ma non ha le opere. E fa un esempio. Se un fratello, una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo e uno di voi dice loro andatevene in pace riscaldatevi e saziatevi e non dà loro il necessario a che giova? Colpisce nella vita di Padre Giacomo lo ha sottolineato il Padre Provinciale colpisce nella vita di Padre Giacomo questa relazione sua con i poveri che non è una sensibilità che nasce da un'attenzione esclusivamente sociale no, no Padre Giacomo ha occhi per vedere la Palermo del suo tempo San Giuseppe Iato del suo tempo come oggi i cristiani dobbiamo avere occhi per vedere la Palermo del nostro tempo questa Palermo che per alcuni aspetti ha delle grandi similitudini dal punto di vista sociale quante famiglie della nostra città oggi prive del lavoro sono prive della casa sono prive del pane quotidiano non hanno un boccone necessario per la vita di questo giorno non hanno il boccone essenziale per il giorno quante famiglie oggi piangono le nostre famiglie palermitane e quante altre famiglie bussano alla porta di Palermo approdando attraverso il mare e anche loro scappano dalla povertà scappano dalla guerra quale similitudine Giacomo Cusmano percepisce intuisce e qui direi è la sua attualità intuisce addirittura la presenza stessa di Dio e in questo avete sentito qual è il fondamento del cuore stesso del messaggio di Padre Giacomo e il cuore stesso di Dio che noi conosciamo leggendo le scritture Esther Dio Dio e lei lo ha sentito dalla sua famiglia è uno che ascolta il grido del povero Giacomo Cusmano ha letto nel Vangelo qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei miei fratelli l'avete fatta a me Giacomo Cusmano ha letto ha letto nel Nuovo Testamento che il Cristo il figlio di Dio si è fatto povero lui che era ricco per arricchire noi per cui ha una pienezza di visione che gli nasce dalla sua fede dall'essere stato dall'inizio con Gesù con Gesù ed è attraverso Gesù che noi assimiliamo la mentalità di Dio che abbiamo un cuore appunto misericordioso questo è il significato di misericordia un cuore capace di coinvolgersi e per questo allora per Giacomo Cusmano il povero è sacramento sacramento di Gesù alla stessa stregua dell'Eucarestia e pensate che questo messaggio è arrivato al cuore della Chiesa attraverso il Concilio Vaticano II nella Lumen Gentium si dice che come Cristo così la Chiesa e la Chiesa riconosce nel volto dei poveri l'immagine del suo Signore e del suo Maestro e mi permettete sta qui il fondamento della sensibilità di Papa Francesco che dall'inizio non per una sensibilità sociale ma per una eminente eminente parola di fede ha chiesto alla Chiesa di diventare Chiesa povera e dei poveri e allora questo è quello che oggi ci dice il Beato Cusmano noi siamo qui non solo per fare un atto celebrativo ma per riprendere dalle sue mani dal suo cuore la sua testimonianza pensate quel gesto quanta profezia in quel gesto che vale per noi cristiani per le nostre parrocchie per i nostri gruppi che vale per la città e per chi guida una città avete sentito anche che tipo di interlocuzione aveva il Beato Cusmano con le istituzioni qui oggi noi capiamo che quella è la via l'intuizione se ognuno di noi dal proprio piatto toglie un boccone si prepara un piatto un piatto ripieno per un'altra persona e quindi qual è il messaggio il messaggio è che una comunità cristiana esiste perché dobbiamo tenere dentro l'esistenza umana la testimonianza del cuore di Dio che ama tutti ma ha un cuore particolare per i poveri per cui la testimonianza di Giacomo Cusmano per le nostre comunità significa ripartiamo dalla contemplazione ripartire dai poveri significa che noi capiamo il significato dell'Eucarestia nell'Eucarestia noi facciamo la memoria della Pasqua del Signore che è morto per noi che è risorto per noi e lo riconosciamo come corpo donato corpo consegnato sangue versato per noi boccone avete sentito che cosa dice Giacomo Cusmano è quello il boccone che il Signore provvede ogni giorno per noi a continuare la testimonianza dell'amore misericordioso del Padre che ci consegna il Figlio come cibo per cui il Signore ci conceda oggi di accogliere con coraggio con creatività di aggiornare la testimonianza del Beato Cusmano perché oggi più che mai la Chiesa la comunità cristiana deve essere in mezzo agli uomini testimone di questo cuore misericordioso di Dio e possa essere per tutti per tutti fermento di una nuova comprensione della vita che viviamo insieme che viviamo nella città noi siamo certi che abbiamo una sola via che è quella di Giacomo Cusmano riconoscere il Signore nei poveri e se gli uomini riconoscono il povero lo accolgono allora stanno preparando anche una migliore convivenza umana i cristiani siamo per questo in mezzo al mondo sale i cristiani siamo per questo in mezzo al mondo luce perché noi sappiamo che Dio Dio ha un cuore misericordioso Amen grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e 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 a tutti. Grazie a tutti. e 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 tutti. e a 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 tutti.